inventiamoci ora aspetta che sono preso male se no allora questo è ci va come un treno si si è sempre andato bene da dal primo anno lui qui però bene dai la spia tanto è questa curva qui si si però dai cavallo che qui ci va bene speriamo l'ho portato con la speranza che riescano comunque almeno a correre il palio il fuccecchio e sarà un cavallo presente si è sì ma questo ci va bene visto un cavallo uno di ve li va a battere ma sai ce n'è tanti che vanno bene come lui è uno di quelli che non ti nego che spererei di montare come butta ma come butta e guarda oggi fa piacere essere qui perché c'è un po di gente che è interessata e quindi un po di ci rianima un pochino ciao grazie